Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. Ecco qui una bella guida all'acquisto dedicata alle eccezionali offerte Amazon di ottobre, riservate ai clienti Prime. Per questi due giorni, 11 e 12 ottobre 2022, troverete davvero una marea di sconti incredibili per migliaia di prodotti tech e in questo video mi concentro sulle migliori smart tv in offerta. Tutte quante offrono ottime prestazioni e la maggior parte sono modelli nuovi di quest'anno. Se stavate pensando di acquistare una nuova tv siete arrivati nel posto giusto, quindi occhio perché in questi due giorni di sconti si possono fare davvero degli ottimi affari. Non mi dilungherò nelle descrizioni altrimenti il video durerebbe troppo tempo. Vi anticipo già che tutte quante queste smart tv sono pronte per il nuovo digitale terrestre. Hanno la risoluzione 4k, integrano wifi e bluetooth e sono compatibili con Alexa e assistente Google. Prima di iniziare vi ricordo che per raggiungere le migliori offerte Amazon selezionate per queste smart tv potete farlo comodamente dai link qui sotto in descrizione. Partiamo con le offerte per le smart tv Samsung e il primo modello che vi presento è della serie 7190 del 2021, quindi ha già avuto un abbassamento naturale del prezzo per via del tempo, ma è tuttora un modello che offre caratteristiche moderne e interessanti per chi vuole una buona qualità spendendo poco. E infatti grazie a queste offerte il prezzo di questa smart tv scende ulteriormente. Integra il processore Crystal 4k che supporta la funzione di upscaling ed è in grado di migliorare la resa cromatica rispetto alla serie precedente. La tecnologia motion accelerator integrata rende più fluide le immagini in movimento. Ci sono tre porte HDMI con funzione eARC e integra la tecnologia HDR. Il 43 pollici è in offerta a soli 299 euro, il 50 pollici a 329 euro e il 55 pollici soltanto 359 euro. Prezzi incredibilmente vantaggiosi. Saliamo decisamente di livello con i nuovi QLED Samsung usciti nel 2022. Questa è la serie Q65 e promette il 100% di volume colore e sfumature straordinarie, grazie al sistema Quantum Dot. Integra la tecnologia Dual LED che divide i LED dello schermo in luce calda e luce fredda, ottimizzando la tonalità cromatica e offrendo un contrasto più intenso e preciso. Anche qui troviamo la funzione motion accelerator che ottimizza la fluidità nelle immagini in movimento. Integra le tecnologie HDR10+, HLG e Dolby Digital Plus. Ci sono anche qui tre porte HDMI con funzione eARC. Allora in questo caso abbiamo il 43 pollici scontato a 529 euro, poi il 50 pollici a 729 euro, il 55 pollici a 749 euro, il 65 pollici a 979 euro e infine anche il 75 pollici che grazie a uno sconto del 22% arriva a 1479 euro. Sempre QLED Samsung ma della serie Q75 che oltre al design differente del piedistallo, rispetto alla serie Q65 offre in più la frequenza di aggiornamento a 120 hertz in 4k e la tecnologia AMD FreeSync Premium per poter sfruttare a pieno le prestazioni dei videogiochi di ultima generazione. La tecnologia motion accelerator in questa serie Q75 viene potenziata. Per questo nuovo modello di QLED Samsung Q75 troviamo in offerta il 55 pollici a 799 euro da un prezzo pieno di 1199 e anche il 65 pollici che invece da 1499 euro del prezzo di listino scende a 1179. Trovate tutti i link alle offerte Amazon selezionate proprio qui sotto in descrizione. Ed ecco anche i nuovi Neo QLED di Samsung che sfruttano la tecnologia dei mini LED, molto più piccoli dei classici LED, fornendo così un livello di dettaglio e realismo molto alto. La tecnologia Quantum Matrix permette un controllo molto preciso delle singole zone retroilluminate, consentendo così di ottenere colori fedeli all'originale e ottimi dettagli sia nelle scene più luminose che in quelle più scure, avvicinandosi alla qualità OLED per quanto riguarda i neri. Grazie ai nuovi altoparlanti e alla tecnologia Dolby Atmos si può ottenere un audio multidimensionale molto coinvolgente. Qui abbiamo una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz in 4K, la funzione Motion Accelerator Turbo Pro e la tecnologia FreeSync Premium Pro di AMD per giocare con le console di ultima generazione ai massimi livelli. Qui i prezzi sono un po' più altini ma grazie agli sconti diventano anche più abbordabili. Il 43 pollici è scontato a 919 euro, il 50 pollici a 1049, il 55 pollici a 1399 e infine anche il grande formato da 65 pollici che da 2.599 euro passa a 1.899. L'ultima Smart TV Samsung che vi propongo per queste incredibili offerte è il modello Desiro da 43 pollici. Come vedete può essere orientato in modo classico o in verticale e possiede già il suo supporto. È un modello del 2020 ma proprio per la sua particolarità e il fatto che è richiesto da un tipo di utenza specifica ho deciso di inserire anche lui in questa guida all'acquisto e lo sconto è molto interessante perché dal suo prezzo di 992 euro grazie al 45% di sconto si trova attualmente a 549 euro. Vi ricordo che queste offerte dureranno ufficialmente solo due giorni. Mi raccomando trovate tutti i link alle offerte selezionate proprio qui sotto nella descrizione del video. Ora passiamo ai Sense con alcuni suoi modelli molto interessanti ed all'ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco infatti il modello A6 che offre un processore con intelligenza artificiale in grado di effettuare l'upscaling in 4k e ridurre il rumore delle immagini. Integra la tecnologia HDR Dolby Vision e audio da 16 watt con DTS Virtual X. Ci sono anche funzioni specifiche per i videogiochi. Troviamo in offerta il formato da 50 pollici a 329 euro e poi si salta subito al 75 pollici che per questi due giorni di sconti si può avere a soli 749 euro. Ed ecco anche i QLED di eSense che come quelli di Samsung sfruttano la tecnologia Quantum Dot per offrire una qualità di dettagli e di resa cromatica superiore rispetto alle tv led classiche. Questo modello in offerta è della serie E78 HQ e integra la tecnologia Direct Full Array che permette una retroilluminazione a zone con un'alta precisione per offrire ottimi dettagli anche nelle scene molto luminose o molto scure. troviamo HDR Dolby Vision e la tecnologia di audio 3D DTS Virtual X. Troviamo anche funzioni per il gaming che diminuiscono i tempi di latenza e poi la modalità sport che migliora la fluidità delle immagini in movimento. Troviamo in offerta il 43 pollici a 379 euro, il 50 pollici a 399, il 55 pollici a 429 e anche il 65 pollici a 649 euro. Davvero degli sconti incredibili. Vi ricordo che trovate tutti i link alle offerte Amazon selezionate qui sotto nella descrizione del video. E adesso vediamo insieme queste splendide Smart TV OLED di LG uscite nel 2022. Veri e propri oggetti del desiderio. Partiamo dal modello base della serie A2. Integra il nuovo e potente processore Alpha 7 di quinta generazione, con intelligenza artificiale in grado di ottimizzare automaticamente immagini e sonoro. Lo schermo OLED oramai non ha bisogno di presentazioni e in termini di qualità di immagine è il meglio che si può chiedere ad una tv. Detto questo, in base poi alle tecnologie integrate potrà avere una resa maggiore o minore. In questa serie A2 troviamo Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Pur essendo un modello base offre l'inconfondibile qualità dei neri che solo lo schermo OLED può offrire. E tutte queste Smart TV di LG che vi propongo offrono la funzione Filmmaker Mode, la quale praticamente rimuove dai film i filtri inseriti in post-produzione per le versioni casalinghe, mostrando così la versione originale così come voluta dal regista. Per la serie A2 di questa tv OLED LG troviamo il 48 pollici a 849 euro e il 55 pollici scontato a 949 euro. Prezzi che fanno davvero gola ai puristi dell'immagine che desiderano la qualità dello schermo OLED ma ad un prezzo molto abbordabile. Nella serie B2 di questa tv OLED LG troviamo le stesse caratteristiche principali della serie A2 ma in questo caso abbiamo la porta HDMI 2.1 con tecnologia iARC e VRR e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz in 4K, quindi è pensato anche per supportare al massimo le prestazioni delle console di ultima generazione. Infatti troviamo anche le tecnologie Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium per ridurre al minimo i tempi di latenza. E collegando un controller compatibile sarà possibile sfruttare i servizi di Cloud Gaming GeForce Now e Google Stadia per giocare in streaming senza download e senza altri dispositivi. In offerta troviamo il 55 pollici con uno sconto incredibile del 44%, che da un prezzo pieno di 1799€ lo porta a 999€. Davvero un bel affare, se siete interessati occhio a non farvelo sfuggire. Trovate il link all'offerta Amazon selezionata proprio qui sotto nella descrizione del video. Ma se volete ancora di più ecco anche la serie C2 dei nuovi OLED DLG, che offre tutto quello che vi ho descritto per la serie A2 e B2, ma in questo caso integra il processore più potente DLG fino a questo momento, l'Alfa 9 di quinta generazione, in grado di lavorare in sinergia con tutte le tecnologie integrate, come ad esempio il nuovissimo sistema Dynamic Tone Mapping Pro, che elabora i colori su ben 5000 zone all'interno di un singolo fotogramma, offrendo così colori più intensi e il rispetto dei minimi dettagli. La tecnologia Brightness Booster invece incrementa del 20% la luminosità delle immagini. In questo caso abbiamo il 42 pollici a 1049€, il 55 pollici a 1349€, il 65 pollici a 1729€ e infine anche il 77 pollici a 2599€. Nella serie G2 Gallery Edition degli OLED top di gamma DLG, oltre a tutto quello descritto fino ad ora, troviamo il nuovo standard Wi-Fi 6 e la tecnologia Brightness Booster Max, che aumenta ulteriormente la luminosità delle immagini, aumentandola fino al 30% in più rispetto agli OLED della precedente generazione. Anche qui naturalmente troviamo il processore più potente di LG e abbiamo il 55 pollici in offerta a 1799€ e il formato da 65 pollici a 2399€, quindi con ben 1000€ di sconto rispetto al suo prezzo pieno di 3399€. Troviamo in offerta anche le nuovissime smart TV di LG che adottano la tecnologia QNED, che combina la qualità degli schermi NanoCell con la tecnologia Quantum Dot, per dar vita a immagini ancora più spettacolari e realistiche. Poi ci sono anche altre TV di LG con tecnologia LED classici, sempre del 2022 con prezzi incredibilmente vantaggiosi. E abbiamo anche le fantastiche TV Sony Bravia, sempre scontate per questi due giorni di offerte incredibili. Le nuove e meravigliose smart TV OLED di Sony, in grado di offrire un design tra i più belli e le tecnologie più avanzate per il miglioramento delle immagini, per ottenere realismo e resa cromatica ai massimi livelli possibili. Insomma, se sei alla ricerca di una nuova smart TV, sicuramente qui puoi trovare quella che più si adatta alle tue esigenze. Oltretutto, grazie a questi sconti esclusivi dedicati ai clienti Prime, potete pagare molto meno. Vi ricordo che per raggiungere tutte le offerte Amazon selezionate per queste meravigliose TV che vi ho presentato, potete farlo comodamente cliccando sui link qui sotto nella descrizione del video. Prima di salutarvi, vi invito a lasciare il vostro like e a rimanere connessi per non perdervi i prossimi video. E quindi iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanella delle notifiche. Un caro saluto a tutti e a prestissimo. Ciao! 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 Ciao!